cari amici ben ritrovati in questo video non ci occuperemo di arte bensì di filosofia o meglio di pensiero filosofico questa è una prima parte ne seguiranno altre mi preme farvi conoscere la mia visione filosofica sulla materia ontologica e sulle relazioni tra l'essere fenomenico e l'essere metafisico o assoluto diceva epicuro a qualsiasi età è bello occuparsi del benessere dell'animo nostro e quindi mai si è troppo giovani o troppo vecchi per filosofare epicuro ma chi è il filosofo un po tutti noi siamo filosofi nel momento in cui desideriamo o meglio sentiamo proprio il bisogno di conoscenza ovviamente per conoscenza non si intende cercare di capire come funziona all'interno una macchinetta per conoscenza qui intendiamo la conoscenza assoluta la ricerca di quella che spinozza il grande filosofo spinozza chiamava la causa sui e cioè la causa prima dell'essere e non le cause secondarie o con cause che spesso e volentieri sono soltanto agli effetti di quella causa cari miei amici queste mie riflessioni un po aforistiche un po random come si suol dire come dicono gli inglesi queste appunto queste mie riflessioni che vi farò ascoltare sono il frutto di elaborazioni mentali nonché di esperienze di meditazione che mai ho abbandonato sin dalla giovane età la filosofia come l'arte come ho sempre sostenuto sono l'unica panacea contro un mondo assurdo un mondo scuro e demonico in cui stiamo vivendo e me un mondo pieno di affaristi speculatori politicanti disonesti ed imbroglioni un mondo dove i giovani sono abbandonati a loro stessi mancanza di una guida di un esempio di valori spirituali gettati nel nichilismo più tetro ed alienante ahimè vi auguro buon ascolto la salute sia sempre con voi un caro saluto da Umberto Salmeri ogni cosa è circolare ogni cosa è sferica e così è il mondo l'universo tutto ciò che appare lineare è soltanto temporaneo perché destinato per necessità ad inclinarsi per la struttura stessa dello spazio che è curvo a tale proposito affascinante la definizione che einstein dette dell'universo una mega sfera ove il centro è dappertutto e la circonferenza da nessuna parte la prova evidente della circolarità e sfericità dell'universo sono i corpi celesti i pianeti le loro forme ed il loro moto perpetuo ed eterno come sostenne a suo tempo giordano bruno l'universo è eterno ma finito l'idea di infinito nasce da un concetto negativo implicito nei meccanismi della mente umana che inducono a pensare reale l'esistenza di un concetto opposto e o inverso a quello dato in effetti a pensarci bene l'infinito è inconcepibile infatti non esiste esso può essere immaginato in senso romantico letterario vedi giacomo leopardi per esempio o filosofico matematico come quello ipotizzato e costruito in modo bizzarro da george cantor nella sua però geniale teoria degli insiemi non esiste a nostro avviso una numerazione astrattamente n trattino infinita perché ogni numero anche il più infinitamente grande terminerà necessariamente nello a cui si ricongiungerà nel moto circolare su esposto il punto iniziale è anche quello terminale nella circonferenza del cerchio del cerchio cosmico pur tuttavia l'idea di infinito ci ha sempre affascinato soprattutto quando lo vogliamo rappresentare nelle nostre ideazioni ed espressioni artistiche va da sé pertanto che non possiamo fare a meno di citarlo ed immaginarlo nei nostri viaggi mentali ma sarebbe più corretto chiamarlo eterno l'infinito come sinonimo di eterno l'eterno è una dimensione atemporale ed il concetto di tempo si connette ad esso standone fuori ma anche dentro infatti possiamo dire che il mondo è eterno e così anche l'universo di conseguenza possiamo tranquillamente dedurre che non vi è mai stata alcuna creazione alcuna creazione dal nulla ex nihilo nihil che tradotto vuole appunto dire nulla dal nulla anche in questo caso a pensarci bene il nulla è inconcepibile è un concetto negativo ed artificioso come il concetto di infinito la mente umana per natura sua propria pensa le forme ed attraverso le forme non può pensare nulla in quanto di per sé negazione del pensiero stesso il grande chimico la guasier sentenziò assolutamente che nulla si crea e nulla si distrugge ma tutto si trasforma il termine creazione va sostituito con manifestazione effettivamente l'universo ha subito e subirà ininterrottamente una serie indefinita di manifestazioni e successive di soluzioni in uno stato di catena senza cessa fermo restando l'eterno ferma restando l'eternità della materia energia in continua trasformazione i buchi neri aspirano ed annichiliscono la materia ma poi la rigettano sotto forma di energia gli attomi ricompongono la materia e così via sub specie eternitatis tutto rotea tutto è circolare sferico tutto è eterno ritorno tutto ciò che prende forma è circoscritto in una entità circolare le forme della nostra esperienza discendono dagli archetipi geometrici ogni poligono di n lati ed angoli nasce all'interno di una struttura circolare attraverso l'unione o congiunzione dei punti di una circonferenza la geometria solida segue le stesse regole di quella piana e non è altro che una proiezione pluridimensionale di quest'ultima le forme e le figure geometriche sono le idee platoniche gli archetipi e fanno parte del mondo o dello stato di necessità sono concepiti dalla mente universale come sono intuiti da quella umana perché ciò che è lo è perché non può essere diversamente